ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video in collaborazione con il gruppo di telegram di cui ne faccio parte per questa settimana siamo soltanto in tre quindi siamo io fabiana e cristiana e ovviamente le saluto tutte tutte e due saluto tutte e due le mando un bacio ovviamente appena finita di vedere il mio video andate subito a vedere loro allora questa settimana cosa ci ha proposto fabiana fabiana voleva sapere sbirciare nel nostro beauty e ci ha chiesto di fare il what's my summer beauty che sarebbe questo qui era lei per farvi vedere cosa ci portiamo in viaggio oppure qual è il vostro diciamo il beauty estivo allora io inizierei sinceramente dalla parte di sotto e finire nella parte di sopra perché ci sono più prodotti per quanto riguarda la parte di sotto scusate un pochettino sozzo ma vi faccio vedere questa crema pre per i piedi allora io ho di norma porto le calze contenitive perché ho avuto la trombosi due volte per due volte e quindi devo tenere le calze di solito faccio le maschere ai piedi proprio per ammorbidire il piede ma essendo sempre coperto non ho questi tipo di proprio problemi di sapete quelle non so come dire tipo quelle callosità che avete qui nei piedi perché portando le calze io a quasi 18 anni che porto le calze automaticamente non ho tipo tipo questi problemi però portando sempre le calze fino a un paio d'anni fa li portavo in tutte e due le gambe e tutte e due chiuse sia estate che inverno capite bene che il mio piede aveva bisogno di fare una specie di piediluvio e quindi cosa faccio quando tolgo la calza lavo i piedi eccetera eccetera per farli rinfrescare per fargli prendere proprio l'aria al 100% e farli sentire più freschi specialmente in estate io utilizzo la questo tipo di crema ed è una crema effetto ice infatti è una crema effetto mentolato infatti se tipo ad esempio io metto il ventilatoio lo metto puntato ai piedi si congelano perché questa crema è molto molto particolare perché ti raffredda subito il piede e almeno specialmente anzi quando diciamo fa caldo in estate io ne ho veramente bisogno perché quando tolgo le calze io respiro e quindi questa è la prima cosa poi per quanto riguarda il corpo io sto ancora utilizzando questo qui che è lo scrub corpo della bio della ph bio ed è quello dell'idl io lo sto utilizzando l'ho utilizzato questo inverno e ancora lo sto utilizzando vedete e lo utilizzo di più ovviamente nel fondo schiena e nelle gambe io utilizzo questo panno non so se voi lo conoscete io infilo metto metto la mano qua dentro e prendo un pochettino di crema e poi massaggio questo già è ruvido di suo in più con in più in più con questo scrub devo dire che mi sono trovata bene l'odore è ottimo buono veramente molto molto buono e quindi mi ci trovo benissimo in inverno ho utilizzato un tipo di crema ma ovviamente in estate ne utilizzo un'altra più fresca e più particolare specialmente al profumo del cocco al profumo di cocco allora queste questa l'ho presa l'anno scorso sotto consiglio di elisabetta r perché lei ne parlava benissimo di questo prodotto lei era proprio amata cioè amava scusate le propria amava questo prodotto e quindi mi ha messo curiosità e l'ho voluto prendere avevo preso due al cocco uno con i fiori sono mi sbaglio quello al cocco l'anno scorso l'ho finito e quindi estate estate comunque il cocco richiama estate quindi si deve assolutamente utilizzare profumo di cocco ottimo poi saliamo io ad esempio anche quando è estate faccio i miei scrub di solito faccio il mio scrub a settimana per quanto riguarda questo qui di l'oreal questo qui è all'argilla pura ma in estate avendo anche una pelle abbastanza sensibile utilizzo quello più leggero e devo dire che mi sono trovata bene con questo nel senso che lo sto utilizzando in questo periodo perché io già sento caldo in più va bene luci lasciamo perdere per oggi però di norma sto sentendo caldo io sto sempre a casa la mia casa essendo ad angolo entra il sole dappertutto e quindi sto utilizzando questo infatti vedete siamo arrivati qua e devo dire che mi piace ovviamente come utilizzo questo lo utilizzo accoppiato a questo questa è la spugnetta del lidl e io la utilizzo con lo scrub di kiko io metto questo nella spugnetta infilo le mie ditine ovviamente questa è non bagnata questa è quella nuova che tengo qua sopra per diciamo se mi serve per fare video perché quella bagnata è sotto ed è bagnata perché l'ho utilizzata prima di fare il video allora cosa faccio metto lo scrub sulla spugnetta ovviamente lei diventa grande e inizio a massaggiare su tutto il viso facendo sì che tutte le la pelle secca viene già tolta e la stessa cosa lo fa l'avevo fatto anche l'anno scorso però non con questa l'avevo fatto con una specie di spugnetta che aveva una specie di di bombatura quasi teneva così con le dita e lo dovevate strofinare era cioè se non mi sbaglio l'ho presa da aliexpress se non mi sbaglio sì e mi esfoliava il viso oppure utilizzate il clarisonico oppure il quello che che ho io che della sony sony no che sono aspetta della philips che della philips io mi perdo è l'età mi perdo comunque per adesso sto utilizzando questo e devo dire che mi piace sia il profumo bellissimo stupendo proprio si sa di fresco e assomiglia tantissimo al doposole che utilizzavo io che ho fatto la scorta sicuramente avete già visto il video un bel po di tempo fa comunque mi piace come scrub e mi piace come combo tutte e due io li adoro in assoluto perché sono la mia come si dice la mia salvezza perché con questo mi sento il viso più pulito perché di norma lavo il viso con la saponetta ma spesso dopo avermi cioè dopo il trucco e tutto c'è un residuo di sebo invece di fare la maschera come facevo prima io faccio uno scrub veloce veloce bello fresco e ciao per quanto riguarda il corpo in generale parliamo di ascelle e questo è il prodotto che utilizzo tutto l'anno quindi compreso l'estate anzi soprattutto in estate no io lo utilizzo sempre quindi è il mio amico fedele di 365 giorni quindi questo ottimo allora parliamo di viso allora per quanto riguarda lo struccaggio io vi consiglio un prodotto ma ottimo ma vi dico ottimo che la mia scoperta dell'anno sinceramente non lo lascerò mai più sto parlando di questo questo è un è un gel detergente purificante elimina l'impurità della garnier allora questo è una meraviglia questo io l'ho sopra il il lavello del bagno questo non lo tolgo fa parte della mia saponetta fa parte con la mia saponetta e la mia spugnetta del diciamo della sistemazione del bagno perché questo è una meraviglia è mentolato quando vi togliete il makeup che io lo utilizzo con i dischetti simili a quelli che voi avete acquistato da Lidl io l'avevo acquistato molto prima da Aliexpress lo metto gli do due pushate diciamo due push nel dischetto e lo passo su tutto il viso vi da un effetto rinfrescante che è una meraviglia ha lo stesso effetto che mi fa sui piedi questo me lo fa sul viso ed è meraviglioso cioè sinceramente è meraviglioso è stupendo ti dà quella sensazione di freschezza sul viso che voi non avete idea vi strucca che strucca benissimo ovviamente il mio trucco normale io lo faccio con la spugnetta io gli utilizzo questo strofino gli occhi non mi irrita gli occhi come fa ovviamente la saponetta questo non mi irrita gli occhi quindi anche se io strofino gli occhi strofino abbastanza forte non mi fa diciamo bruciare gli occhi proprio per me è pazzesco io lo adoro infatti ve lo sto proprio dicendo lo comprerò assolutamente appena finisco questo lo ricompro ho altri prodotti ma questo lo ricompro assolutamente perché mi è piaciuto troppo poi quando abbiamo già lavato il viso e tutto ovviamente utilizzo i miei prodotti per prima cosa il milk questo qui di solito io lo lascio nel frigorifero questo qui piccolino perché ce n'ho un altro messo là questo lo lascio nel frigorifero lo prendo lo passo sotto gli occhi gli dà un effetto rinfrescante è bello fresco e di solito lo lascio in posa un paio di minuti con la mascherina con i cetrioli che quelli io ce l'ho nel congelatore perché l'ho messo dentro i sacchettini e quando metto questa cremina diciamo sotto gli occhi metto anche i cetrioli e così mi dà quell'effetto di freschezza io non soffro di borse sotto gli occhi però mi piace proprio l'effetto che mi fa sembra che diciamo non lo so come dire ti fa sentire più fresca e mi piace mi piace molto veramente questo prodotto accoppiato ai dischetti dei cetrioli poi ovviamente utilizzando quello io metto dopo il metto dopo il contorno occhi questo qui di Sephora che mi ci trovo benissimo ve lo faccio vedere gnam gnam ce lo stiamo mangiando e ho visto anche che c'è ho visto in un pacchetto di Sephora che mi è arrivato nella Sephora Gold c'era la crema quindi utilizzerò in combo i due prodotti anche se sto utilizzando un'altra crema in questo periodo però questo mi sta piacendo tantissimo l'unica cosa che certe volte dipende il make up che faccio e dipende se strofino troppo mi brucia un pochettino all'angoli degli occhi però non capita spesso però quell'effetto di freschezza perché io ne metto abbastanza cioè ne metto abbastanza e non lo come si dice non lo non lo massaggio tutto lo massaggio un pochettino e lo faccio rimanere perché ovviamente mi piace che la mia pelle assorbe il prodotto perché la mia pelle è abbastanza secca e ha bisogno di nutrizione poi per quanto riguarda il viso invece io sto utilizzando questa crema che è alla cera di cupra ed è per pelli secche ovviamente ed è nutriente questa crema infatti è proprio adatta al mio tipo di pelle perché è una pelle secca specialmente in estate che è arida proprio ho bisogno di nutrirla e come faccio con il contorno occhi ne metto abbastanza così la pelle si riprende la crema che diciamo è rimasta perché veramente io cioè mi dovete vedere io metto la crema che sembra tipo bianca dopo qualche minuto la crema già non c'è più infatti quando mi tocca il viso già la crema non c'è più perché la mia pelle proprio se la mangio subito e quindi ottima anche questa però essendo che adesso ho anche la crema della stessa linea metterò tutte e due nel mio beauty e questa la utilizzerò qui per truccarmi l'ultima cosa che non deve mai mancare ma mai 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 sono due cose una è qua infatti ce l'avevo a portata di mano e l'altro eccolo qua allora questo l'ho fatto io è un burro di cacao questo l'ho fatto io perché ho tolto già sta finendo ho tolto tutti i i barattolini che avevo per quanto riguarda i balsami labbra nei pottini tutte le vaschettine infatti poi devo fare anche un video di finiti ho tolto tutti perché c'era un pezzettino di qua un pezzettino di là e mi seccava la stessa cosa succede quando utilizzate i balsami labbra perché arrivano fino a metà invece poi c'è un residuo di prodotti siccome a me piace infatti si sente bubble gum qui perché ho messo il balsamo labbra che era di H&M se non mi sbaglio l'ho messo qua dentro e fa un profumo ragazzi pazzesco l'ho fatto a bagnomaria ho preso una specie di cucchiaino ho mescolato il tutto e mentre diciamo prima di raffreddare l'ho inserito qua dentro ovviamente l'ho lasciato tutto in fondo l'ho inserito l'ho chiuso l'ho messo nel frigorifero e l'indomani l'ho utilizzato infatti io ce l'ho come vi ho detto anche negli altri video ce l'ho in tutte le costazioni ce l'ho uno qui uno in cucina dentro il frigorifero uno nella mia stanza uno nel bagno e poi nelle borse oltre a questo mi capita spesso di andare da mia mamma e non mettere niente sulle labbra di solito io ho il burro cacao cioè il burro cacao che lo metto nei jeans e vado da mia mamma però siccome fa caldo e il burro cacao mi capita che si squagli direttamente diventa un gelato proprio liquido al massimo io voglio utilizzare il lip oil di Wicon io ho questo vedo spesso utilizzare alcune ragazze che è questo con il pennellino l'ho passato è abbastanza liquido liquido abbastanza morbido vi da quell'effetto di morbidezza sulle labbra che io adoro perché io adesso ad esempio ho una tinta labbra ma fra pochi minuti o metto un burro di cacao o metto un gloss sulle labbra perché io proprio questa secchezza la sto sentendo in tutti i limiti questo è per quanto riguarda la mia beauty bag estiva quindi summer se dobbiamo essere inglesi per quanto mi riguarda ovviamente io non so se andrò al mare ma credo proprio no io ho paura io vedo molte persone che vanno in giro e tutto io ancora non me la sento sinceramente tipo la paura incombe e specialmente essendo anche a contatto con persone abbastanza grandi come i miei genitori e ciao Stefania io essendo in contatto con i miei genitori che sono abbastanza grandi sono anziani mio papà non è stato bene non mi sembra giusto diciamo andare al mare frequentare persone e tutto e poi andare a casa dei miei genitori capite il mio senso di vita è questo quindi non credo di no per questo anno voglio risparmiare diciamo così dai va bene ragazze per questo video è tutto io ovviamente vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao